ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale johnnyotto allora oggi si va a pesca visto che qualcuno me l'ha richiesto un video sulla pesca lo rifaccio più che volentieri anche perché ultimamente che avevo poco tempo per rilassarmi un pochino mi ci metteva appunto a giocare ragazzi perché è veramente rilassante allora dove siamo siamo in oregon siamo nella tanna della trota ovvero al lago falcon vediamo un po abbiamo queste specie di pesci disponibili qualche piccolo persico delle spigole ma soprattutto abbiamo qualche qualche varietà di trota abbiamo la trota banda rossa dell'oregon una specie particolare che praticamente dovrebbe crescere solo in oregon abbiamo la trota con la b al cobaleno che è la trota comune ragazzi diciamo la trota la trota iridea diciamo quella che si trova anche dalle nostre parti poi abbiamo la trota a fare anche questa si trova qua dalle nostre parti per le nostre parti io intendo in toscana nelle mezzone con lucchesi ragazzi montagnose e la trota a gola rossa andiamo a caccia di trote questo perché perché ci danno abbastanza soldini le trote io come vedete nel mio portapesci ho 14 kg di pesce tutte trote che tranne che una spigola insomma vengono pagate discretamente perché se troviamo per dire degli esemplari unici di trota arcobaleno ci danno 500 soldi l'una e quindi insomma sono soldini nonché un bel po di esperienza infatti con queste poche trote mi sono fatto ben due livelli ragazzi allora come siamo montati siamo montati con un paio con tre canne tutte e tre a spinning ragazzi quindi niente galleggiante al momento si 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 lavorerà a spinning su questa qua sono montato con una canna che ha un carico di un chilo da un chilo e mezzo a tre chili il peso di lancio del in questo caso del cucchiaino ragazzi va tra i 5 e 18 grammi abbiamo un po di lenza di floro 023 che è un po più trasparente meno visibile ai pesci e anche questo qua resistenza è stato testato con 3 kg 6 a strappo quindi insomma è un buon figlio ragazzi e più o meno anche queste qua siamo siamo uguali magari queste qua sono ancora un pochino meno perché lanciano fino a 14 grammi anche se il carico più o meno l'anno anzi questa per dire la maggiore questa qua in realtà sarebbe come vedete qua per per la pesca notturna ma io la utilizzo anche di giorno tanto mi cambia poco sinceramente ma io maggiormente uso questa qua la element element al 260 ragazzi con un cucchiaino rotante senza ardigliore mi piace di più e devo dire che che ha il suo buon effetto perché tutte quelle che ho preso fino adesso lo ho preso con questa canna allora siamo anche in una buona fascia rara di pesca come vedete perché il periodo di mangiata è proprio adesso che va tipo dalle 9 e mezzo 10 fino alle 7 la sera poi possiamo anche vedere il giorno dopo a ok anche il giorno dopo è uguale quindi volendo ci potrebbero mandare avanti allora questo lago mi piace particolarmente io è infatti più guardando la mappa mi piace mettermi qua ragazzi perché qua c'è un bel punto profondo diciamo lo spot che più mi piace o qui oppure magari anche qua giù da quest'altra parte che magari poi dopo vi faccio vedere che sarebbe la dietro vi faccio vedere eccola oltre quella roccia lì dalla parte opposta allora direi di effettuare un bel lancino ci mettiamo la frizione circa a metà e si cerca di lanciare lì che più o meno è lo spot dove ho catturato tutte quelle altre usando una tecnica di non recupero dritto ma stop and go ecco una tecnica di stop and go mi veniva ecco questa qua intero più in bar vedete in alto a destra potete vedere ha preso qualcosa mi i tre pallini accanto alla scritta interrompi e vai stanno a dire che l'esca lavora bene e c'è attività intorno a essa ve l'ho già detto anche nel precedente video ma insomma ve lo ricordo almeno è una cosa più che male non fa eccolo abbiamo preso ragazzi vediamo un po di che si tratta vediamo un po di che si tratta allora dal colore sembra una trota del cobaleno non credo che sia unica perché sennò che storia sarebbe già scappata e odio sta iniziando a scappare però resta iniziando a scappare no no al massimo è un trofeo ragazzi una trota trofeo al massimo siamo in una lobby condivisa con altre persone ragazzi e quindi si può anche scambiare due chiacchi volendo c'è la chat vedete in basso qui a sinistra e mi sta scappando sì forse un esemplare da trofeo non è male non è male e ci vorrà un po a tirarla fuori ragazzi perché pescando con la canna leggera ultra leggera diciamo che non posso forzare più di tanto perché se vado a forzare troppo rischio rischio di danneggiare componenti e di schiantare tutto ragazzi pesche perché si pesca ultra leggeri qua perché il peso dei pesci non è che sia poi così così alto essendo trovate ragazzi si parla di due chili due chili e mezzo al massimo forse rarissimi casi ma presumo proprio rari a tre chili non ci si arriva e questo che vuol dire che se vado a pescare con attrezzatura pesante ovvero con mulinelli canne e lenze eccetera eccetera che magari supportano fino a 50 grammi di lancio galleggiando di lancio cucchiaino insomma di peso di carico sul peso del lancio che reggono magari a pesci fino a 10 kg testati avrò un un malus sui soldi e sull'esperienza che andrò a guadagnare ad ogni pesce catturato ora vi faccio vedere se si riesce a prenderlo questa pesce ve lo faccio vedere meglio così almeno mi a schermo quando c'ho l'interfaccia schermo che mi fa vedere i guadagni non riesco a capire meglio e comunque puttana maiale al cucchiaino il cucchiaino rotante senza di lione colpisce ancora al primo lancio ragazzi ok ce la siamo portati intanto a 17 metri ora di scappa ancora poi vi consiglio vedete io c'ho tre barre verdi una è per la lenza una per la carne una per il mulinello vi consiglio di andare nelle impostazioni appena se decidete di comprare questo gioco insomma di no di comprare di scaricarlo perché è free to play questa versione vi consiglio di andare nelle impostazioni e impostarlo con i comandi però che ve le fa vedere tutte e tre altrimenti ne avrete una una unica è una bella trota arcobaleno del trofeo eccoci qua vedete xp guadagnati 193 o due freccette verdi quindi questo è quello che dicevo prima queste due freccette verdi stanno a indicare che ho preso il bonus in quanto la mia attrezzatura è leggera ed è diciamo conforme per prendere questi tipi di pesci qua che non sono proprio pesissimi infatti vedete è 2 kg e 100 è proprio nel range di di montatura che ho io ragazzi quindi è quasi perfetta e anche questo ci ha fruttato ben 369 soldini me lo rilascio lo metto in sacca che ora voi qui non vedete vi faccio vedere al volo se mi riesce ragazzi mi sposto io con la telecamera magari ecco aspettate sto facendo del casino mi metto tipo qua ecco almeno avete tutte le scrittime a modo che tanto qua non c'è niente a parare allora in alta a sinistra vedete io c'ho la fish case l plus che sarebbe la rassa ragazzi la rete dove si mette il pesce ha una capienza di 200 kg e il peso massimo per singolo pesce di 75 kg vuol dire che se pesca un pesce un pesce che è più di 75 kg non ce lo posso affilare dentro allora attualmente è piena per 16 kg e 4 quindi voglia ti riempirla considerate che con 16 kg e 4 io insomma ho già ho già un bel po di pescino insomma di soldini guadagnati al momento sto a 2784 considerate quanti soldini farò se riesco a riempirla e quindi è diciamo è il trucco di questo gioco il trucco tra virgolette diciamo è la meccanica di questo gioco siccome arrivare ai laghi a un bel a un bel costo ragazzi intanto che scende giù l'esca come vedete dico questa cosa arrivare per viaggiare per andare nei laghi fra i vari laghi a un costo a un corso di viaggio a un costo anche per dormire se ci state più giorni ea un costo soprattutto di licenza di pesca perché se non prendete la licenza avanzata del luogo in cui siete andati a pescare non potrete catturare determinati tipi di pesci ma dovrete rilasciarli e quindi magari che le soglia vi costa 5 6 mila dollari ecco 5 6 mila soldi a volte anche di più dipende quanto è distante il luogo in cui volete andare a pescare mi può costare anche di più e quindi la cosa fondamentale la meccanica si basa su questo riuscire a riempire il più possibile del nasa più pesante possibile ovviamente più peso trasporta meglio è ora sto facendo casino nel mentre che parlo ecco più peso trasporta meglio è così almeno riuscite a ripagare le vostre spese e andare in guadagno perché se avete speso 4 mila soldi fino a che non avrete del pesce nella nasa nella rete per 4000 che non avrete ripagato le vostre spese quindi se uscirete prima da dalla mappa per spostarvi di un'altra che ne so magari non vi piace non non vi ci trovate non abboccate non avrete portato con voi la tristatura giusta l'avete lasciata a casa ovvero nel garage di casa nel deposito e decidete di andare via prima di avere impito la nasa sappiate che ci andiate ci andrete rimessa quindi ecco magari vi consiglio di restare almeno fino a che non vi siete ripagate le spese allora rifacciamoci il lancio perché tanto questo qua stavo chiacchierando mi era venuto un po a bis che l'ho sciolto ragazzi come si dice nelle riparti puttana maiala avevo fatto scendere anche fin troppo la il cucchiaino vediamo se si riesce a prendere un bel esemplare di quelli unici ragazzi e di quelli che che mi garbano a me come tecnica sempre interrompi e vai che è quella che mi piace più di tutti è quella che diciamo rende di più però dobbiamo restare concentrati a modo perché dobbiamo riavvolgere e rilasciare al momento giusto altrimenti non lavorerà bene la lenza ah cazzo sono fatto scappare come un fesso puttana maiala ancora c'era guarda del maledetto ci girava intorno me ne accorgo ragazzi perché come vedete mi va via la scritta interrompi e vai lassù sotto il galleggiante che lavora e vedo che inizia a lavorare le tre le tre striscine lì del bullinello canna e lenza vanno iniziano ad andare in tensione ho provato a dare lo strazioni lo strattone con il tasso destro ma niente da fare era una tocchettina leggera leggera e vabbè allora noi si rilancia proviamo a cambiare spot proviamo a cambiare spot anche se io sono molto restivo a cambiare perché quando mi trovo bene in un punto dopo tendo a buttare sempre il cocchiaino nel certo punto perché magari ci sannidano la a a tocchetta so se avete visto e tre bari avevano iniziato a lavorare poi nulla viate di cambiare anche ragazzi magari di provare a cambiare tipo di riavvolgimento magari di provare a tenere premuto per un dritto un dritto lento quello quello vedrete voi come poi trovate meglio però ecco io quella più remunerativa ecco quella che mi sembra che ripaghi di più sia lo stop e go ragazzi ora sul mouse che mi fa dei capricci mi sa che ciò le pile scariche a volte non mi piglia non mi prende il tasto no 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 non mi guarda non mi guarda dobbiamo tornare di là poi volendo lì ci sono anche delle varchette da poter noleggiare si può andare anche in mezzo al lago ragazzi ma io rifaccio il mio lancio lì dove mi piace a me visto che di là non si è vista neanche la tocca a malapena proprio una pseudo tocca diciamo ragazzi poi siamo a metà circa del fondale ovviamente essendo un gioco di pesca ragazzi e soprattutto il gioco di pesca ultra reale perché veramente io sento che sei sulla scrivania un pc non riconosci se sei a pesca davvero o se sei o essere di essere un gioco perché veramente la fisica del gioco la reazione dei pesci l'efficienza dei pasturi perché poi sono anche i vari pasturi che ve l'ho fatto vedere quello precedente video con le carpe l'efficienza delle esche l'efficienza insomma di tante cose il funzionamento di tanti accessori da pesca è veramente identico alla realtà quindi questi ragazzi qua che hanno creato il gioco l'hanno fatto veramente un capolavoro e noi come al solito li ringraziamo perché insomma poi colgo l'occasione ragazzi di dirvi se vi va di iscrivervi al canale così ci facciamo altri giocati di pesca poi abbiamo iniziato anche la serie di eccolo qua puttana maiala 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 abbiamo iniziato anche la serie di morta share ragazzi su playstation 5 che è praticamente un sol slide ispirato ai giochi di from software ovvero dark souls chi non conosce la saga di dark souls e devil souls anche ragazzi quello che trovate anche lì sul mio canale completo da ragazzi con qualche anche anche con qualche tutorial per qualche arma scudo anime eccetera eccetera quindi se vi va ragazzi iscrivetevi qui con johnny otto gaming e intanto ci siamo fatti scappanato bel pesciotto è magari vediamo se faccio dettagli è perché sinceramente mi piace anche farvi vedere appunto che alle volte si passa anche un po di tempo senza pescare una beata minchia proprio come la realtà nel senso appunto che di quanto è reale il gioco anche questo che magari uno diceva un gioco di lancio piglio un pesce invece no con il cavolo non prende un pesce di lancio come vedete quindi non lo so perché può essere noioso effettivamente perché magari uno diceva devo stare lì a riavvolgere la lenza due palle davanti a un computer mi può anche tagliare video no far vedere quando pili il pesci sì però in realtà mi piace anche farvi vedere queste cose qua appunto per farvi apprezzare la realtà del gioco eh stavolta ci è rimasto puttana maiala stavolta ci è rimasto ragazzi ci è rimasto proprio qui sotto ci ha seguito fino a riva praticamente non mollate mai ragazzi perché alle volte ho visto pigliare un pesce anche a tre quando giù in basso nel contatore in basso a destra mancano tre metri di lenza e sarebbe arrivato sarebbe finito il recupero ho visto pigliare un pesce cioè ho preso un pesce anche là quindi non disperate mai arrivate sempre a tirare fino all'ultimo senza demordere perché anche adesso infatti ha boccato intorno a 10 metri quindi vengono a mangiarci proprio sotto al naso quelle maledette trotelle ragazzi ragazzi e ragazze anche volendo colgo anche l'occasione ragazzi per salutare un mio grande amico che ci giocavo sulla free station 4 adesso ci gioco da pc a questo gioco ho iniziato a giocarci con lui che si chiama il grande mitch the dog ragazzi il grande mitch the dog il grande lino nome reale grandissimo lino ragazzi lo saluto tantissimo e se fai un salto in questo video lito ti saluto ancora doppiamente tanti tanti saluti e anzi bisognerebbe anche di giocare ogni tanto insieme a questo gioco anche perché te sei andato avanti avanti ho visto c'è giocato ancora io mi ero un po fermato quindi devi essere diventato un guru della pesca sicuramente lino allora anche questa direi che va e vediamo se qualcuno ha preso qualche esemplare unico no tutti da trofeo una presa una band una trota da banda rossa dell'oregon che sarà vero quella paga ancora di più io purtroppo qua sono di livello 15 ragazzi perché come vi ho detto prima ci cercavo sulla play poi l'ho voluto scaricare su pc perché mi tornava più comodo tastiera e mouse sono un po abituato meglio con tastiera e mouse visto che poi tanto è gratuito purtroppo non si possono passare i salvataggi da un account a quell'altro tra playstation e pc e quindi ho dovuto iniziarlo e sono a livello 15 e quindi diciamo alcuni laghi che avevo sbloccato per dire se ne sblocca uno bello a livello 22 white moose ragazzi è bello perché quello li ha un lago in cima a un lago ghiacciato ecco con tutti i ghiacciati intorno dove vai a pescare tanti grossi salmoni belli belli ragazzi e pesanti e tanti grossi luci nord americani di quelli belli ora qui si rischia che si slami il pesce ok l'abbiamo ripreso l'abbiamo ripresa alle volte allenta tutto e quindi c'è da da lavorarlo così tipo adesso vedete non capisco perché è il mio mouse ragazzi e che ora capito perché è il mio mouse che sarà vero mi sta abbandonando con le pile comunque alle volte lo fa lo stesso ragazzi devo devo trovare assolutamente delle pile speriamo di arrivare in fondo a questo video ormai e dicevo insomma sblocchi questo bel lago è un bel paesaggio tutto ghiacciato insomma al freddo al gelo con dei bei luci nord americani dei bei dei salmoni roba anche da 7 8 kg e anche da 15 o 20 kg cioè diciamo che quando ti abbocca un luccio un salmone non è mai meno di 5 kg e quindi c'è un po di divertimento ecco anche lì e è bello e soprattutto anche lì vengono ripagati bene ragazzi vengono ripagati bene ovviamente è una bella spesa andare fin lassù anche le licenze mi sembra che costino parecchio ora magari dopo ve lo faccio vedere un attimo la licenza appena se riusciamo a tirare fuori questa trottetta qua non è unica perché si è fatto troppo presto ma sarà da trofeo sempre arcobaleno mi sembra di aver visto esatto sempre altro sarco barino la trofea ma insomma i nostri puntini ce li da le licenze ragazzi sono queste qua licenze vedete avanzata perché io l'ho comprata prima di prima di iniziare il video l'ho comprata con i soldi di gioco ovviamente con i bigliettini queste sono monete che le guadagni o shoppandole e poi comprare alcune cose nel negozio oppure le guadagni sbloccando obiettivi facendo dei livelli eccetera eccetera comunque ti costano costano le licenze classici soldi e vedete qua con la licenza Oregon avanzata abbiamo nessuna restrizioni su tutto e anche la pesca notturna e in barca mentre con la licenza normale di base non costa nulla ovviamente anzi no forse qualcosa costa costa molto meno però bisogna di lasciare le trote a bande rosse le trote fari le trote al corbaleno trofeo unico quindi non guadagnare diventa un problema diventa un problema è difficile e poi appunto è vietata anche la cattura notturna e la pesca in barca quindi è un po' il controsenso prendere quella licenza di base non ha per nulla senso secondo me non ti serve a niente perché sono evitati delle cose e devi rilasciare alcuni pesci tipo questo qua l'avrei dovuto rilasciare quindi non avrebbe avuto tanto senso beh cazzo questo visto e preso eh questo ragazzi visto e preso mi è piaciuto subito eh però non è una trota questa qua sarà vero questo va è qualcosa di... vediamo se inizia a tirare vediamo se inizia a tirare forse si eh forse si 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 vedete come salta poi una trota probabilmente si era un po' addormentata o magari è più piccolina eh si è svegliata si è svegliata vedo che lavora bene adesso l'espulsione l'espulsione delle teste di serpente ottiene la stringa ferro di cavallo d'oro è un qualche volta che il logo che c'ho quella quel achievement diciamo quella cosa di missioni chiamiamola un po' così lì quell'obiettivo lì non so che cavolo sia se qualcuno di voi lo sa ragazzi me lo vuole dire mi fa anche un grosso favore sinceramente allora questa qua si è un arcobaleno però non so neanche sia da trofeo o è una spigola la vedo di un colore marrone scuro siccome vedo che c'è una strisciata marrone quando esce salta ora è ripartita non la vedo più puttana maiala ora è ripartita non la vedo più allora Grazie. E' ripartita, c'è venuta sotto il naso ragazzi e è ripartita, puttana maiale mi fanno il cazzà quando fanno sì anche quando vado a laghetto davvero che ti venga lì sotto il nado io soprattutto pesco le carpe a laghetto perché poi le trote non mi calvo perché il pesce non mi piace quindi io quando pesco rilascio sempre il pesce perché poi mi dispiace, li buco la bocca ma poi mi dispiace ucciderle e quindi pesco le carpe a cart fishing ragazzi come nel precedente video e tutte le volte ti vengono sotto al muso, adesso invece era un arcobale infatti non era la trofea ma insomma va bene, ti vengono sotto come vedono il guadino ragazzi puttana maiale poi se pescate anche voi lo sapete bene, catturo un certo numero di pesci usando attressatura da pesca senza ardiglione, ricompense un soldino, ecco le ricompense che vi dicevo prima, e nulla e ci si fa un altro bel lancetto allora, il mouse non funziona mi ci vuole le pile puttana maiale, mi fa incazzare mi fa incazzare ecco la subito un altro ragazzi ve l'ho detto quando c'è lo spot giusto ragazzi quando si trova lo spot giusto non va mai lasciato non va mai lasciato mi piaceva farvi vedere se trovavo un esemplare unico che è un po' più laboriosa ne ho presa una una di quelle che ho in Nassa mi era andata fino a 90 metri ragazzi, è stata una bella lotta almeno 10 minuti buoni buoni di lotta sono stati ovviamente si fa tutto con il mouse ragazzi ecco si fa tutto con il mouse e la gestione della canna quindi mano libera e anche rilassante anche per quello tasto sinistro premuto si gira il mouse tasto destro si può strattonare e io per comodità sui pulsantini laterali mi sono messo la gestione vedete della frizione in basso a destra i segmenti circolari e la gestione della velocità di riavvolgimento del bullinello vedete rallenta e così aumenta sulla rotellina del mouse perché altrimenti tutte le volte devo stare lì premere i tasti più o meno insomma sulla tastiera messi male me li sono messi sul mouse così almeno è più è più comodo me li sono messi sui tastini laterali di quelli che si usano col pollice ancora una classica trota arcobaleno bene bene ma tutto fa ragazzi tutto fa tutto fa perché se si va a vedere la mia nassa siamo a 3600 abbiamo fatto già un millino ragazzi con 45 pesce abbiamo fatto già un millino eh eccoli qua gli esemplari unici infatti vedete ora se va via questa cavolo di scritta uno da 3 kg o 2 kg e 8 kg non so da quanti kg iniziano gli esemplari unici sinceramente eh non lo so però insomma intorno ai 3 kg abbiamo visto vediamo se si ripiglia di nuovo vediamo se si ripiglia di nuovo mi sa che una di vele già presa vela lì è stata rilasciata di vele furbe che ha sentito il metallo dice qui non è pesce ragazzi andiamo via non è roba di carne moscerino moschetta no questo probabilmente sarà un lancio a vuoto a meno che non succeda come prima che ci abbocca tutto di un colpo qua in fondo proprio sotto il naso all'ultimo secondo eh esattamente ragazzi esattamente puttana maiala all'ultimo secondo di nuovo vediamo se ci si fa prenderla senza farla scappare subito ma dubito perché tanto quando partono partono ci fa poco sono già a rischio e strappo vedete su sulle strisce degli accessori la mi piace tantissimo questo cucchiaino e per pescare le trote ragazzi ve lo consiglio veramente cucchiaino rotante senza ardiglione che poi già ora vi faccio anche vedere così almeno preso questo pesce vi faccio vedere poi magari ci salutiamo ragazzi e ci diamo appuntamento nei prossimi video e cercherò di farvi di più di giochi di video sulla pesca perché mi piacciono veramente tanto così magari vediamo se si riesce anche ad andare in qualche nuovo lago nelle prossime volte magari il livello livello un pochino così lo sblocco e vi faccio vedere appunto anche il discorso dei pesci mi sono scordato prima quando c'era la lista dei pesci per farvi vedere che ogni pesce vi dice anche le loro esche preferite sia naturali che artificiali così almeno mi faccio vedere quello e questa qua è un buon luogo in oregon per le trote infatti si chiama la tana delle trote non per niente e la mastardine ragazzi è voluta andare a 50 metri quasi puttana vai da poi sono ancora messo male con internet e mi ci vuole con la connessione che ho adesso un video di 30 40 minuti mi ci vuole tipo due ore e mezzo ragazzi a pubblicarlo in rete purtroppo perché c'ha l'upload che è veramente scarso e quindi sto aspettando che mi vengono a sistemare anche internet un'altra compagnia e spero che questa volta insomma con tecnologia differente da quella che sto utilizzando adesso perché adesso era provvisorio giusto per non essere senza spero che insomma mi migliori un po l'upload così anche a pubblicare video riesco a pubblicarne più di uno al giorno o comunque a mantenere il ritmo di uno al giorno senza problemi perché poi ho i giga limitati al momento e quindi quindi più di tanto non posso fare allora un altro bel trofeo trota arcobalino da trofeo la conservo allora come vi dicevo conquistatore di trofei 2 cattura il certo numero di pesci trofeo ok anche io gli abbiamo guadagnato due soldini oltre vabbè anche una panoramica generale sul negozio allora quel negozio che troviamo quando siamo fuori ovvero non siamo in base ma siamo in una location di pesca tipo adesso che siamo in Oregon è limitato avremo solo come vedete per dire nella pagina di attrezzatura quattro pagine sole e è veramente limitata la cosa perché non siamo nella base vera e propria dove allora c'è tutti più negozi più quantità di oggetti disponibili le pagine arrivano tipo anche a 20 ci sono tanti veramente tantissimissime cose non per nulla infatti qua il livello perché poi queste cose qua io per dire queste non la posso prendere perché serve il livello 17 sono livello 15 non per nulla qua il livello degli oggetti che si può comprare arriva fino al 17 e magari non ci sono gli oggetti livelli 50 ecco invece quando non siete nella location tipo all'oregon ma siete fate esci andate via allora sì che le avrete avete avrete anche più oggetti tra quattro ore inizia il throat hunter ovvero una gara ragazzi che dura dalle 11 stasera a luna stanotte tempo punteggio 30 minuti caccia tutte le forme di trota insomma ci sono anche le gare poi ragazzi che vengono organizzati i tornei quello che volevo farvi vedere hanno le specie pesci ecco esempio trota banda rossa dell'ordi con la selezionata e vi dice tutte le informazioni della trota che può essere di solito fiescono fino a superare 25 cm di lunghezza con un peso di mezzo chilo e 8 eccetera eccetera si nutrono prevalentemente di pesci foraggio mentre gli esemplari più giovani preferiscono insesti e crostacei insetti scusate qua vi dicono le loro esche naturali preferite quindi voi magari che ne so organizzate una battuta di pesca proprio qui in oregon via vado a catturare due trote che trote ci sono ok ci sono questi trote qua arrivano a questi chili qua esemplari unici di oltre 4 kg ecco appunto arrivano quindi che ne so sapete che insomma la la il peso medio di ogni singolo pesce che catturete sarà dai due chili e tre chili e mezzo quattro chili è quasi impossibile quindi calcolate una media di quel peso lì e già in base a questo vi fate la vostra montatura come vi dicevo all'inizio con il peso di lancio insomma per restare nel giusto range per prendere poi il bonus anche di esperienza e soldi che no forse solo esperienza e soldi non lo so in più poi che succede andate qua a esche naturali preferite mosche e femmere cavallette in base a come pescate se volete pescare col galleggiante allora guardate le esche naturali perché le agganciate al lamo col galleggiante se invece volete pescare a spinning ragazzi quindi a recupero o a sbico lo sbirulino come si chiama dalle nostre parti con quel pescino di gomma di silicone poi dovete andare allora a comprare queste qua cucchiaini stretti cucchiaini rotanti che è quello che uso io nano cucchiaini rotanti no forse uso il nano che erotanti insomma la rose e le larve ragazzi e questo per ogni pesce questa qua per dire la faria può pescare anche con un crank bait si può pescare che è quel pescino un pochino più un pochino più grosso di questi vi normali no questo è il pop forse non c'era neanche crack bait qua allora vediamo se ce l'ho no purtroppo non c'era solo spinner bait ma insomma è quello fatto a pesce ragazzi un pochino più grosso e quindi niente qua qua io ho la mia roba disponibile che ho nello zaino che non ce l'ho tutta perché ci sono dei limiti come avete quasi un basso per portare le cose il resto è a casa divisa in lense galleggianti pesi ami pasturatori che fanno anche da da piombi ecco da peso per quando si va a pescare a fondo canne non ne ho altre perché lo lasciate a casa e così via ragazzi mi raccomando allora fatemi sapere che ne pensate perché ci tengo tantissimo se vi piace il gioco se voi ci giocate come pescate cosa pescate soprattutto a cosa date la caccia giornalmente o quando insomma giocate a fishing planet fatemelo sapere che ci tengo tanto vi ricordo di nuovo se vi va ad iscrivervi iscrivervi al mio canale iscrivervi non mi viene la parola maiala e detto questo ragazzi spero vi siate divertiti ci siamo visti due o tre trote vi prometto veramente che cercherò di fare video più lunghi ma adesso purtroppo come vi ho detto per via della connessione devo stare un pochino ristretto perché altrimenti mi ci vuole una giornata a caricarlo su youtube purtroppo ragazzi e quindi vi prometto che appena mi sistemo con internet e spero di sistemarmi al meglio che allora dopo cercherò di fare il video magari più completi detto questo ragazzi vi ringrazio di nuovo come già detto iscrivetevi al canale se vi va così seguiamo alcuni giochi insieme e ci vediamo come sempre qua su johnny otto gaming ciao ciao